Edoardo VIII era lo zio della regina Elisabetta ed è stato re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dello Stato Libero d'Irlanda e degli altri domini britannici, oltre che imperatore d'India, dal 20 gennaio all'11 dicembre 1936. Edoardo nacque durante il regno della bisnonna Vittoria, primogenito del duca e della duchessa di York, in seguito Giorgio V e Maria di Tec. Venne nominato principe di Galles per il suo sedicesimo compleanno, nove settimane dopo che suo padre fu salito al trono. Da giovane Edoardo prestò servizio nell'esercito britannico durante la Prima Guerra Mondiale e intraprese numerosi viaggi all'estero per conto di suo padre. Mentre era principe di Galles intraprese una serie di affari che preoccuparono suo padre e il primo ministro britannico Stanley Baldwin. Edoardo divenne re alla morte di suo padre. Come re mostrò insofferenza per l'etichetta di corte e suscitò preoccupazione tra i politici per il suo apparente disprezzo per le convenzioni costituzionali stabilite. Inoltre, egli era particolarmente noto negli ambienti mondani, oltre per il fatto di essere l'erede al trono, anche per il suo aspetto attraente, il suo gusto ricercato in fatto di moda e per suo status di scapolo. Durante gli anni 20 e 30 frequentò molte feste e cerimonie, e durante una di queste conobbe l'americana Wallis Simpson. Wallis era la moglie dell'uomo d'affari Ernest Aldrich Simpson e in precedenza era già stata sposata col pilota della US Navy Earl Winfield Spencer, junior, divorziando da lui nel 1927, inoltre aveva fama di essere una persona molto venale e un'arrampicatrice sociale. Dopo la morte del padre e l'ascesa al trono, egli continuò a frequentare Wallis che divenne in breve una presenza fissa del Palazzo Reale Britannico, in costante assenza del marito di lei. Nell'estate del 1936 Edoardo rinunciò al tradizionale soggiorno estivo nel castello di Balmoral per intraprendere una crociera nel Mediterraneo con Wallis, ovviamente senza che il signor Simpson fosse invitato. L'evento ebbe ampio respiro nella stampa americana ed europea, ma la stampa britannica non ne fece parola per non destare scandalo sul nuovo sovrano. Nonostante il silenzio autoimposto dalla stampa il popolo britannico venne a conoscenza del fatto grazie al fatto che molti inglesi all'estero avevano accesso ai giornali d'oltremanica ed oltreoceano. In ottobre nell'alta società britannica circolava già la voce che Edoardo aveva intenzione di sposare Wallis appena possibile. Alla fine del mese la Simpson avviò le pratiche per il divorzio dal marito e la stampa americana rese pubblica la notizia, dando il matrimonio per imminente. Il 13 novembre 1936 il segretario privato del re, Alexander Harding coadiuvato da alcuni ministri, scrisse al sovrano facendogli notare che la stampa non poteva più mantenere il silenzio su un evento di tale portata e che era necessario fare chiarezza, inoltre avvertiva il sovrano che se la notizia fosse stata confermata il popolo avrebbe disapprovato, a giudicare da ciò che era successo in Canada, dove la notizia era già di dominio pubblico, e gli effetti sarebbero stati calamitosi. Il 16 novembre 1936 il re convocò il primo ministro Stanley Baldwin a Buckingham Palace comunicando la propria intenzione di sposare Wallis Simpson, Baldwin fece nuovamente presente al sovrano che il popolo non avrebbe approvato il matrimonio e non avrebbe accettato Wallis come regina, anche Stanley Bruce I, commissioner australiano a Londra, fece sapere che il popolo avrebbe provato orrore nell'apprendere chi fosse la nuova sovrana. John Buchan, governatore generale del Canada, andò oltre affermando che nonostante il grande affetto che nutriva per il re il popolo canadese si sarebbe sentito insultato dal fatto che il re sposasse una donna divorziata con due ex mariti ancora in vita. Nonostante tutto la stampa britannica continuò a non proferire parola, anche se la notizia era ormai nota al grande pubblico, fino a quando Alfred Blunt vescovo di Bradford durante un discorso fece un'allusione interpretata come il primo commento ufficiale di una personalità in vista sulla crisi. Il 3 dicembre, nel tentativo di sfuggire alle pressioni della stampa, Wallis lasciò il Regno Unito per spostarsi nel sud della Francia, la separazione devastò Edoardo al punto che dopo breve tempo i due si riunirono ignorando i pettegolezzi. Il capo del governo canadese William Leon McKenzie King scrisse ad Edoardo dicendo che quello che sentiva nel suo cuore era giusto, ma di anteporre comunque i suoi doveri di re prima del suo sentimento per Wallis. Anche il capo del governo britannico Stanley Baldwin disse che il popolo si opponeva decisamente al suo matrimonio con la Simpson, e qualora lui decidesse comunque di andare avanti con i suoi propositi il governo si sarebbe dimesso in massa. Di fronte a questa possibilità Edoardo disse chiaramente che intendeva sposare Wallis appena possibile e che se questo avesse comportato dimissioni e disordini sarebbe stato pronto ad andarsene. Di fronte a queste parole Baldwin vedeva tre possibili scenari, 1. Edoardo e Wallis si sarebbero sposati e lei sarebbe diventata regina 2. Edoardo e Wallis si sarebbero sposati ma lei non sarebbe diventata regina, un matrimonio morganatico, 3. Abdicazione di Edoardo valida per se stesso e per tutti i propri discendenti avuti con Wallis Simpson. La prima opzione non fu mai considerata e fu scartata a priori da tutti. La seconda opzione inizialmente sembrava quella più probabile, in quanto a livello europeo vi erano dei precedenti, ma non aveva nessun parallelo con la storia britannica. Il 5 dicembre il re richiese di rivolgersi al popolo via radio, e nel messaggio annunciò che avrebbe abdicato e sposato Wallis. A Fort Belvedere, il 10 dicembre, Edoardo firmò l'atto ufficiale di abdicazione alla presenza dei suoi tre fratelli Albert, futuro re Giorgio VI, Henry e George. Il giorno seguente il Parlamento si riunì per votare l'Is Majesty's Declaration of Abdication Act 1936, che ratificò l'abdicazione. Per via della legge britannica ogni Stato membro del Commonwealth avrebbe dovuto ratificare l'atto tramite il proprio Parlamento. Questo portò alla preoccupazione che in caso qualche Stato non l'avesse ratificato si sarebbe creato uno scisma all'interno del Commonwealth. Tuttavia questo non accadde e tutti i Parlamenti, in tempi più o meno brevi, ratificarono l'atto. Il giorno 11 Edoardo parlò nuovamente alla radio, chiarendo ancora una volta i motivi che lo avevano portato alla sua scelta, affermando che non avrebbe potuto svolgere il suo lavoro di re senza il supporto della donna che amava. Giorgio VI concesse al fratello il trattamento di altezza reale ed il titolo di duca di Windsor il 12 dicembre del 1936, due giorni dopo la firma ufficiale dell'abdicazione, anche se il documento formale fu firmato solo l'8 marzo dell'anno seguente. Al contempo Giorgio VI dovette acquistare Balmoral Kessel e Sandringa Maus da Edoardo perché queste due tenute erano proprietà esclusiva dell'ex sovrano e non si trasmisero con l'abdicazione. Inizialmente la coppia si spostò in Austria, per poi stabilirsi in Francia. Il 3 maggio 1937 il divorzio di Wallis Simpson fu finalizzato e il messe successivo la coppia poté finalmente sposarsi. Con il matrimonio Wallis divenne a tutti gli effetti duchessa di Windsor, tuttavia la settimana prima del matrimonio re Giorgio emise una lettera patente in cui negava il titolo di altezza reale alla cognata ed escludeva la trasmissione del titolo ai figli della coppia. Dopo il matrimonio i duchi vissero in Francia per la maggior parte della loro vita. Edoardo pote godere di un vitalizio concessogli dal fratello, che integrava con l'attività di scrittore ed imprenditore, coinvolto anche in attività illegali. I due sono rimasti assieme fino alla morte di Edoardo, avvenuta nel 1972. In seguito alla morte di Edoardo, la duchessa di Windsor si ritirò a vita privata nella sua villa nel Bois de Boulogne, dove spirò nel 1986. Venne sepolta a Windsor, nella cappella reale, accanto al marito, col titolo di Wallis, duchessa di Windsor.